Per il 26esimo anno consecutivo la campagna è maglia nera nella illegalità ambientale, nel ciclo dei rifiuti e nel cemento. Napoli si conferma prima provincia d'Italia per numero di reati ambientali, 2207 seguita da Salerno che scalza ben sei posizioni rispetto al 2018, con 1161 reati, più del doppio rispetto al 2018. I numeri e le storie raccolte nel rapporto Ecomafia, dichiarato Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, dimostrano come il crimine ambientale sia un crimine d'impresa. È urgente per Legambiente affiancare alla risposta giudiziaria che in questi anni ha portato dei buoni risultati una risposta politico-istituzionale ancora troppo carente. La lotta all'Ecomafia, dice Maria Teresa Imparato, deve diventare la vera priorità per la campagna. Il rapporto sull'Ecomafia analizza anche il ciclo dei rifiuti dove si registrano 1.930 reati contestati, più del 20% sul totale nazionale in testa alla classifica. Anche in questo caso c'è Napoli con 609 infrazioni, mentre Salerno è terza dopo Avellino, ma con un incremento record più 96% rispetto allo scorso anno. La campagna e la provincia di Salerno si confermano al top in Italia per l'accemento Connection con 1.645 reati accertati nel 2019 ed un incremento del 40% in più rispetto allo scorso anno nell'ambito dell'abusivismo edilizio. Salerno guida la classifica provinciale a livello nazionale con 480 infrazioni accertate sul suo territorio ed un incremento del 97% dei reati, 356 persone denunciate e 68 sequestri. Questi numeri, conclude Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, ci restituiscono una regione ancora piegata sotto il peso del cemento illegale che continua ad essere un settore rilevante della criminalità ambientale. A far ben sperare l'approvazione di una norma fortemente voluta dall'associazione ambientalista il potere sostitutivo affidato ai prefetti quando i comuni non provvedono entro sei mesi ad eseguire le ordinanze di demolizione da loro stessi emesse.